A un certo punto ci siamo accorti che con tutte queste trasformazioni nel panorama europeo in tema di stabilità finanziaria e supervisione bancaria c'era l'esigenza di creare una scuola europea che fosse quindi indipendente da valori o ideologie nazionali e creare una piattaforma di confronto tra il mondo accademico e il mondo più di persone che lavorano invece nell'ambito della policy in particolare anche nel settore privato. Quindi nel 2016, grazie anche a un contributo della fondazione della Casa di Spame di Firenze, siamo riusciti a creare questa scuola con l'obiettivo proprio di colmare questa mancanza nel panorama europeo e di insediarla anche in una città come Firenze che comunque porta con sé le radici di quelle che sono le attività bancarie mondiali. Quali sono le principali problematiche del settore bancario e finanziario che la scuola si propone ad affrontare? Allora, essendo una scuola fa moltissime attività di training in particolare in quattro aree, fa training in aree di stabilità finanziaria e politica macroprudenziale, in aree invece più di supervisione bancaria e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria anche e poi fa anche tutta un'area di risk management e un'area invece più, se vogliamo, econometrica o di metodi quantitativi che riteniamo possano essere utili a persone che lavorano in istituzioni. La scuola ha avuto un grande successo finora, è stata creata nel gennaio 2016 e per adesso ha fatto training a più di 1200 persone provenienti da più di 40 paesi diversi, quindi siamo molto contenti del risultato ottenuto finora. Grazie. 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 Grazie.